nazionale contro la schiavitù. 2 dicembre. Oggi si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale per l'abolizione della schiavitù. L'ONU ha voluto commemorare la ricorrenza a partire dal 2 dicembre 1949. Una data simbolo, giorno in cui l'Assemblea Generale ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite per la soppressione del traffico delle persone e dello sfruttamento della prostituzione. Obiettivo della giornata è sradicare le forme contemporanee di schiavitù, come la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento sessuale, le forme peggiori di lavoro minorile, i matrimoni forzati e il reclutamento e l'utilizzo di bambini nei conflitti armati.